Dai poli di un magnete Federazione Galattica della Luce, punto ACT, attraverso Antea, 13 luglio 2024 Domanda Avete accennato prima al ferro fluido, che cos'è? Ziuk, Andromediano Il ferro fluido è un liquido che viene attratto dai poli di un magnete Si tratta di un colloide composto da particelle ferromagnetiche o ferrimagnetiche su scala nanometrica sospese in un fluido vettore, solitamente un solvente organico o acqua Ogni particella magnetica è ricoperta da un tensio attivo per evitare l'agglomerazione I fratelli dello spazio, negli anni 60 del secolo scorso, hanno dato preziose istruzioni alla NASA per creare un carburante liquido dei razzi che potesse essere attirato verso una pompa in un ambiente senza gravità applicando un campo magnetico Inoltre hanno lavorato per aiutare sempre la NASA nella scoperta di nuovi fluidi vettori e nella produzione di nuovi liquidi altamente magnetici I ferrofluidi sono infine le ultime scoperte in questo ambito sono utilizzati per creare guarnizioni liquide attorno agli alberi rotanti nei dischi rigidi e possono anche essere impiegati per visualizzare il suono e le frequenze e le frequenze